E' ancora una situazione d'emergenza quella in cui si trovano gli alloggi popolari di via Ugo Lamalfa a Mascali. Negli anni scorsi i residenti avevano più volte fatto appello all'amministrazione comunale, chiedendo interventi tempestivi di messa in sicurezza dei ballatoi e delle mantovane di sicurezza, ma nella realtà dei fatti sono stati effettuati solo piccoli interventi per arginare il problema. Sembra piuttosto che la situazione sia addirittura peggiorata. Difatti le condizioni in cui si trovano gli edifici di residenza pubblica sono altamente precarie. I residenti, preoccupati per l'agibilità degli stabili e per la propria incolumità, hanno inoltrato varie segnalazioni, tra cui infiltrazioni di muffa, muri scrostati, pezzi di cornicione che di tanto in tanto si staccano e strani scricchioli che non fanno ben sperare. Il sindaco di Mascali, Luigi Messina, ha ricordato i lavori eseguiti di recente, come il posizionamento di reti protettive nei ballatoi e nelle parti di cornicione più lesionate, per cui sono stati stanziati circa 7.000 euro, precisando che gli alloggi sono di proprietà della regione e che quindi per attuare degli interventi straordinari è necessario stilare un progetto con un tetto di spesa compreso almeno tra i 400 e i 500.000 euro. Il progetto, continua il primo cittadino, è già stato realizzato e dentro una decina di giorni sarà inviato alla regione che deciderà se concedere il finanziamento. Ad oggi le condizioni degli alloggi sono allarmanti e residenti, stanchi delle false promesse sentite in passato, chiedono che si agisca immediatamente, prima che qualcuno possa malaguratamente farsi male. Proprio oggi, infatti, presso la sala consigliare del Comune, si è tenuta una riunione interna per fare il punto della situazione e cercare di venire a capo del problema.